Nonostante Iri dal punto di vista meteorologico abbia preso il via la stagione estiva, in realtà per l'amministrazione comunale di Ragusa è iniziato un lungo inverno. Lo affermano dal PD, in particolare i consiglieri Mario D'Aste e Mario Chiavo, la dire dei quali la Giunta Piccitto ha dovuto prendere atto con il rammarico di non avere più numeri per poter andare avanti con la dovuta serenità. I grillini di fatto, proseguono dal PD, risultano oggi essere minoranza perché sono andati sotto in consiglio su due votazioni importanti, propedeutiche alla discussione di delibera che per la Giunta Comunale ha rappresentato da sempre un cavallo di battaglia. E questo è il sostegno, si chiede un'alpd con cui l'amministrazione pensa di vararla e tutto questo nonostante la ricomposizione della nuova amministrazione che, a conti fatti, è stata più un'operazione di potere che una vera e propria azione di rilancio. Il Movimento 5 Stelle, insomma, rimarcano da stecchiavola, non trova i numeri per poter governare e forse è arrivata allora il momento che il primo cittadino ne traga le conseguenze. Quindi è arrivata l'estate, rimarcano dal PD, in effetti è come se fosse iniziato l'inverno.